Sabato prossimo, 12 dicembre, il Centro Storico di Napoli resterà sveglio tutta la notte con un'atmosfera di festa che invaderà le principali vie della città. Torna per la quarta edizione la Notte d'Arte, manifestazione promossa dalla Seconda Municipalità e dal Comune, dedicata quest'anno alla cultura della pace. Dalle 17 fino alle 3 del mattino, incontri, i dibattiti, i concerti si terranno in Piazza Dante, Piazza del Gesù e Piazza Carità ed esibizioni itineranti sono previste in tutte le strade del centro. Per l'occasione offriranno aperture straordinarie, negozi e i principali luoghi d'arte e cultura, musei, scuole, chiese, complessi monumentali. Si potrà anche partecipare a mostre, visite guidate e concerti nel Conservatorio di San Pietro a Maiella. Tante iniziative nelle scuole, saranno poi aperte alcuni musei, tra cui il Madre, quest'anno che precedentemente non era aperto, e tanti artisti, tra cui Tony Esposito, Valentina Stella, Saba Anglana, che è una musicista italo-somala che è testimonia di Amref. Questi si esibiranno a Piazza Dante insieme ai rapper napoletani che l'anno scorso riempirono la piazza con grandissima affluenza di persone. Ancora avremo Piazza Carità o Piazza Salvo d'Acquisto e tante iniziative per i decumani e per i quartieri spagnoli che andranno da parate, da abiti in maschera, da un antico scrivano che utilizzerà la scrittura quale strumento di pace, quindi uno scrivano in abiti storici che sarà su Via Toledo. Si ripete ancora una volta in Piazza del Gesù l'anteprima del Festival Napoli Street Food dedicato al cibo da strada. Nuova invece è la partecipazione all'evento dell'Amref, organizzazione sanitaria che offre assistenza in Africa e che proporrà un percorso esperienziale al complesso di San Domenico Maggiore per sensibilizzare il pubblico sul tema dell'acqua in Africa. Come filo conduttore la pace, l'accoglienza, la solidarietà, la convivenza, tutti insieme è una marea umana per il centro storico di Napoli. Sarà una bella serata non solo di festa ma anche di consumi, dello stare insieme, del conoscere luoghi della nostra città fino alle 3 di notte, il coinvolgimento dei musei, dei luoghi d'arte, delle scuole, degli artigiani, dei commercianti. Un grande sforzo organizzativo anche del Comune di Napoli, della Seconda Municipalità, Protezione Civile, Polizia Municipale, ANM, Cooperativa 25 Giugno, Asia. È la Napoli che ci crede con le sue forze senza l'aiuto di nessuno. In occasione della notte d'arte e evento da vivere rigorosamente a piedi saranno prolungati gli orari di esercizio di metro e funicolari in funzione fino alle 3.